eccoci qua amici col nuovo video della piccolo deposito che ho iniziato a realizzare come vi dicevo nel primo video non ero molto diciamo non ero molto convinto sulle misure da poter iniziare a fare e alla fine insomma ho optato per queste misure 4 metri e mezzo di lunghezza per 3 di larghezza ecco questa è la misura del magazzino deposito insomma che andrò a realizzare con sempre con tutto materiale di recupero quindi sono andato a tagliare questi tronchi che diciamo le ottenuti perché avevo iniziato un'altra playlist della stanza ma al tempo purtroppo non mi per il momento comunque non riesco a farlo lo tengo in stand by i travi ce li ho e quindi e quindi diciamo sarà solo una questione di tempo che potrò diciamo iniziare a realizzare questa stanza come anche il carretto il carretto la dietro ce l'ho sempre lì adesso quando avrò il tempo inizierò a restaurarlo va bene diciamo diciamoci vediamo un po che cosa sono andato a fare allora i due traversi della lunghezza di quattro e mezzo i listelli laterali esterni cioè questo e quello dall'altra parte da tre metri quindi sono andato a fare visto che il pallet è da 120 centimetri di solito sono andato a mettere ogni 60 centimetri circa ogni 60 centimetri una traversina una traversina di appoggio una una centrale e una esterna praticamente una centrale un esterni perché perché la tirata di 120 centimetri sarebbe stata troppo lunga e gli stessi sarebbero sicuramente spezzati anche solo camminandoci sopra quindi sono andato ogni 60 centimetri a mettere un listello all'ultimo sono arrivato a quattro metri e venti quindi lascerò diciamo questa parte più corta questa parte più corta ora intanto inizierò a mettere no la parte del pavimento per tutti i bordi perché perché voglio già siccome ce li ho già pronti questi qui sono tutti gli stelle che andrò a utilizzare per le pareti avendovi già pronti andrò a mettere un listello per tutto il pavimento uno o due ecco per tutta la cornice del pavimento così che potrò già iniziare a montare la parete e così insomma diciamo che la struttura si vedrà si inizierà già a vedere più che altro ho tutti i bancali da smontare quindi sicuramente ci vorrà un bel po di tempo come dicevo nel video precedente quindi essendo un lavoro diciamo per me non è che posso diciamo stare qui tutto il giorno per poter andare avanti lo farò nei ritagli di tempo diciamo che questa è la parte più semplice la parte più sbrigativa di tutto il lavoro andare a sgombrare lo spazio che mi serve e imbastire praticamente la base ok intanto ragazzi io mi fermo qui la base è bella solida bella robusta la dovrò mettere tutta a livello con dei sassi dei mattoncini andrò a mettere tutto a livello e poi inizierò a fare quello che ho detto nel video bene ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao